Io vedo molti amici e colleghi impegnati nel tentativo straordinario di cambiare la destra, di costituzionalizzarla, perché parlano sempre facile per farsi capire, costituzionalizzare la destra, ma io ricordo che noi siamo nati per cambiare la sinistra italiana e questo non sarà mica diventato il congresso del PDL, perché va bene in larga intesa, ma vedo un po' di atteggiamenti sfocati. Cambiare le cose vuol dire anche saper cambiare le persone e se posso riprendere crozza che i dirigenti si sostituiscono sostituendoli.